Si è svolta questa mattina a Ragalna, presso il Palmento Arena, la conferenza stampa di apertura del terzo torneo internazionale Etna Sud. Oltre ai rappresentanti degli enti locali coinvolti, giornalisti e degli sponsor del torneo, c'erano i ragazzi dell'Ipsat Rocco Chinnici di Santa Maria di Licodia che hanno offerto agli ospiti i cibi tipici siciliani da loro preparati. La manifestazione entrerà nel vivo domani con la cerimonia inaugurale, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio che coinciderà con la partita del calcio Catania a Torre del Grifo contro la polisportiva CEI. Tutti i dettagli del servizio sono contenuti all'interno del Tg Sportivo.